Fra poco, ecco qui, questa era l'intervista di ieri di Niang ma queste sono le immagini di oggi. Niang ha provato a impostare un'esultanza in occasione del suo primo gol. Io spero che in una delle prossime cinque partite lo faccia il gol, magari anche più di uno, così si passerà dall'esultanza provata a Milanello all'esultanza effettiva in campo. Speriamo bene.